Un altro sconto diretto perché la classifica dice quello, incontriamo sicuramente una squadra che il giorno in andata era quella che esprimeva il miglior calcio, adesso sta avendo un periodo di flessione, non so perché, anche se reputo la San Giustese a livello anche di calciatori, la squadra che si è rinforzata meglio, come qualità. È un paradosso questo? Sì, è una squadra ambiziosa, ma ha dei valori importanti. Sette partite all'epilogo della stagione, che cosa sarà secondo te determinante? Adesso chi avrà più birra, chi sarà più spenserato, perché i punti pesano, bisogna essere pratici. Voglio vedere quella compattezza vista con il Matelica, poi ovviamente voglio vedere più qualità negli ultimi metri in fase di attacco, perché lì sicuramente si poteva fare meglio, dobbiamo migliorare solo quella cosa lì. Il resto, ripetere la partita di Matelica va benissimo, bisogna fare gol e bisogna comunque essere compatti, perché il Forlì è una squadra che viene da un risultato importante con la Vezzano, una squadra ostica, quindi da non sottovalutare.